Il portiere si ha scivolato le mani, Walter ha calciato, ha preso la traversa dopo io di testa. È stata una situazione un po' estragna, però meno male che è entrata. Ci sono momenti del campionato che uno non può sbagliare, quello lo sappiamo tutti, quindi oggi bisogna vincere sempre. Oggi era proprio importante, lo abbiamo fatto, giocando anche bene, quindi stiamo tranquilli, pensando già mercoledì, speriamo di fare bene tutta la settimana. Dire sempre lo stesso che la squadra è forte o che dobbiamo vincere il campionato, si è detto sempre, però io penso, a differenza di altri anni, che quando noi andiamo, che loro non fanno il primo gol, noi giochiamo tranquilli lo stesso, che altre volte quando loro andavano in vantaggio, sapevamo che la partita era chiusa, quindi quello fa capire che la squadra ci sta e che ha voglia di arrivare fino alla fine sopra tutti. Sì, quello lo deve vedere o il mister o voi che fanno i giudizi, io mi trovo bene, l'ho fatto anche a Latina così, quindi sto contento di rendire un po' di più, mi sento anche più fiducioso in me, in questo ruolo, però vediamo l'importante che la squadra vinca e non pensare tanto al singolo. Cioè, sì, ho sentito queste parole che erano state dette e comunque, io come ho già detto in precedenza, il mio porto, cioè a me piace spingere, piace andare in sovrapposizione, però non è sempre possibile, quindi quando ho l'opportunità cerco di andare, mentre se non c'è, sto là nella mia posizione e cerco sempre di comunque dare una mano alla squadra, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Avete subito fortunati, anche bravi, a sfruttare l'episodio della punizione, che poi ci ha portato subito sull'1-0 e sì, la partita ci ha messa subito su... cioè, l'abbiamo presa subito col piede giusto e siamo riusciti poi a aumentare anche il vantaggio e a portarla a casa a un buon risultato. Effettivamente dopo due pareggi anche un po' si sentiva anche un po' dall'esterno, un po' di amarezza, così, e noi comunque siamo stati sereni, tranquilli e ogni domenica comunque siamo in campo per vincere, oggi ci siamo riusciti e adesso, questa settimana, abbiamo altre due partite e cerchiamo di fare il meglio che possiamo anche, cercando di vincere anche queste prossime due partite.